Se poteste scegliere una destinazione spaziale, dove vorreste andare? Io vorrei andare a Zonzo per il Sistema Solare, un gran tour planetari! Ben ritrovati, mi presento, io sono Alessandra Raffaele, presidente dell'Associazione Ligure Astrofili Polaris e sono onorata di potervi proporre un altro video realizzato dagli studenti del Liceo Scientifico Gian Domenico Cassini di Genova. In particolare oggi parleremo di missioni spaziali, recenti e future, con Ludovica Davini e Giacomo Agnese. che hanno appena concluso il terzo anno del Liceo Cassini. Ludovica e Giacomo sono bravissimi, entrambi appassionati di astronomia, partecipano entrambi al progetto di alternanza scuola-lavoro Polaris Cassini e hanno frequentato il corso extracurricolare di astrofisica e cosmologia che Polaris tiene ogni anno presso la scuola. Inoltre Ludovica, insieme a una sua compagna, gestisce anche il profilo Instagram di Polaris. Non rubo altro tempo ai ragazzi e, brindando con voi, come da tradizione dei nostri astrococktail, vi do appuntamento al prossimo video e vi ricordo che potete rivedere tutti i video della rassegna e molti altri sul nostro canale YouTube Astrofili Polaris. Mi raccomando, bevete con moderazione ma esagerate sempre con l'astronomia. La prima missione di cui parleremo oggi è stata soggetta a molti attacchi da parte della comunità scientifica. A causa dei continui tardi, il costo troppo elevato, ci sono state svariate supposizioni sulla sua cancellazione. Di chi stiamo parlando? Ovviamente del James Webb Space Telescope. Questo telescopio ha fatto davvero parlare di sé in tutti i modi possibili. Ora come ora è definito come il successore di Hubble, anche se osserverà una nuova parte di cielo. Il progetto verrà lanciato probabilmente nel 2021 e la durata uscillerà tra i 5 e i 10 anni, anche se come abbiamo visto con Hubble è in funzione ancora adesso. Il progetto è una collaborazione tra la NASA, la ESA, che si occupa soprattutto del razzo, l'Ariane 5 e l'Agenzia Spaziale Canadese. La prima grande differenza si nota subito in questo video, i diametri degli specchi primari. Hubble ha uno specchio primario di 2,4 metri e il James Webb di 6,5 metri. Data la sua necessità di vedere molto più lontano. La seconda novità sarà l'orbita del James Webb. L'Hubble, attivo dal 24 aprile 1990, ricordiamo che quest'anno c'è stato il trentesimo anniversario, si trova nell'orbita terrestre bassa, ovvero tra l'atmosfera e le fasce di Van Allen. Al contrario, il James Webb si troverà nell'orbita solare L2 di Lagrange, a circa 1,5 milioni di chilometri. Ma perché proprio Lagrange? La decisione viene da come osserverà il James Webb, ovvero principalmente a luci infrarossi, che a volte può essere definita come calore. Infatti quest'orbita permetterà al telescopio un allineamento di sole, terra e luna, in modo tale da funzionare in 24 ore su 24, e mantenere una determinata temperatura, di circa 225 gradi Celsius sotto zero dalla parte, diciamo, all'ombra. Ovviamente il telescopio è dotato di un parasole, e la parte esposta verso la stella raggiungerà circa 86 gradi Celsius. In totale ci impiegherà 30 giorni per arrivare al punto desiderato e in sei mesi dal lancio sarà pronto. Inoltre Lagrange permette al telescopio di non essere disturbato dalla trazione gravitazionale di altri corpi celesti. La sua orbita, chiamata halo, come vediamo in questo video, è tridimensionale e un segnale ci impiegherà circa 5 secondi ad arrivare. In questo paradiso vi è solo un piccolissimo inconveniente, ovvero che se ci fosse un mal funzionamento non si riuscirà ad andare a riparare il telescopio e la missione sarà annullata. Come abbiamo detto prima, il James Webb osserverà il cielo a luce infrarosso. La scelta è dovuta ovviamente all'obiettivo del telescopio, ovvero studiare le prime galassie, circa 100-200 milioni di anni dopo il Big Bang. La luce emessa da questi corpi si sposta verso il rosso, a causa della distanza. Per il redshift molto alto, la luce visibile viene spostata nella parte dell'infrarosso vicino e medio dello spettro elettromagnetico. Così James Webb farà rilievi ultra profondi nell'infrarosso vicino e misurerà l'intensità della radiazione elettromagnetica di ogni oggetto astronomico. Una parte dell'osservazione sarà dedicata anche alla reionizzazione. In realtà telescopi come Kobe e Planck hanno visto molto più in diretto del James Webb, ma lui avrà un percorso tutto nuovo. Il James Webb ha lo specchio primario formato da 18 specchi di beriglio. Il materiale, oltre ad essere ultraleggero, è caratterizzato da uno dei più alti punti di fusione. Inoltre i vari specchi sono rivestiti da una lamina d'oro. Gli specchi hanno forma esagonale per due motivi. Il primo è dovuto agli spazi tra di essi. Infatti gli esagoni permettono di avere pochi spazi tra uno specchio e l'altro. Il secondo motivo è dovuto alla forma generale dello specchio. Esso ha la forma ottimale per riflettere più luce possibile nella regione centrale. Gli strumenti del James Webb sono sostanzialmente quattro. Il NIR-Spec, il Miri, il NIR-CAM e FGS. Il NIR-Spec riuscirà a guardare 100 oggetti contemporaneamente. Esso funzionerà su una gamma di lunghezza d'onda tra gli 0,6 e i 5 micron. Ricordiamo che l'analisi dello spettro di un oggetto è fondamentale per capirne la temperatura, la massa e la composizione chimica. Il James Webb studierà oggetti così deboli che dovrà osservarli per centinaia di ore per avere la luce necessaria per formare uno spettro. Infatti ricordiamo che la durata della missione oscillerà tra i 5 e i 10 anni. Nel telescopio inoltre vi è una nuova tecnologia. Gli ingegneri della NASA hanno deciso di reinventarsi completamente. In totale hanno costruito 250 finestrelle, le misure sono 100 per 200 micron, che riusciranno a fare 100 spettri simultanei. Queste finestrelle hanno una specie di coperchio che si apre e si chiude quando viene applicato loro un campo magnetico. Così ogni cellula sarà guidata individualmente e gli scienziati da Terra potranno decidere che parti di cielo osservare. Così con il NIRSPEC il James Webb farà un vero e proprio passo avanti. Per rimanere invece sempre sulla tradizione dell'Hubble via il Miri, che opererà su una lunghezza d'onda tra i 5 e i 28 micron. Così potrà vedere il redshift delle galassie distanti e le stelle di nuova formazione. L'ultimo strumento fondamentale per il James Webb è il sensore guida. Esso è stato costruito dall'Agenzia Spaziale Canadese e fornirà informazioni di puntamento ad alta precisione. Infatti esso aggiorna la misura baricentrica 16 volte al secondo per avere una stabilità di assetto, quindi di puntamento, dell'ordine di milliarco secondi. A questo punto non ci resta altro che sperare di vedere finalmente il James Webb in orbita. Infatti l'idea del telescopio è nell'aria dal 1989, quando l'astrofisico italiano Riccardo Giacconi, vincitore del premio Nobel per la fisica nel 2002, avanzò l'idea di un successore dell'Hubble per rispondere finalmente a una delle domande più famose della storia umana, da cosa tutto ha avuto origine. Probabilmente tutti avrete riconosciuto la celebre frase pronunciata da Armstrong quando mosse il primo passo sul suolo lunare, ma sapevate che la NASA sta lavorando a un programma per riportare l'uomo sulla luna nel prossimo futuro? Questo programma si chiamerà Artemis, che secondo la mitologia greca era la gemella di Apollo. Questo per ricordare il celebre programma Apollo che portò l'uomo sulla luna tra il 1969 e il 1972. Da allora non siamo più tornati con missioni umane sul nostro satellite, ma la NASA ha come obiettivo di portarvici la prima donna e il prossimo uomo entro il 2024. Ci sono diversi cambiamenti rispetto al programma Apollo, infatti abbiamo molta più esperienza nel volo spaziale e sono state sviluppate nuove tecnologie che garantiscono una maggiore efficienza e sicurezza. La prima missione in programma è Artemis 1 e sarà senza equipaggio. La navetta Orion si porterà in orbita lunare e farà ritorno sulla Terra con lo scopo di testare il razzo e la traiettoria. La partenza di questa missione è prevista per il 2021. A seguire ci sarà Artemis 2. Anche questa missione non prevede la discesa sulla superficie lunare, ma porterà un equipaggio formato da quattro persone in orbita lunare. Sarà solo con Artemis 3 che un equipaggio formato da quattro persone potrà scendere sulla superficie lunare utilizzando uno dei lander sviluppati dall'azienda privata designata dalla NASA. In seguito è programmata la costruzione di una stazione spaziale in orbita lunare chiamata Lunar Gateway, in collaborazione con altre agenzie spaziali tra cui ESA, Roscosmos, JAXA e l'Agenzia Spaziale Canadese. Questa stazione, oltre a prolungare la permanenza degli astronauti in orbita lunare, renderà raggiungibile a qualsiasi punto della Luna. Questa sarà una parte cruciale del programma, visto che la NASA ha intenzione di concentrare la maggior parte degli allunaggi nella zona del polo sud della Luna, perché in questa zona è stato trovato ghiaccio d'acqua in alcuni crateri, che può essere usata come riserve idriche e in futuro potrebbe essere scomposta in idrogeno e ossigeno. Quindi non rimane che da capire a che punto siamo. Per quanto riguarda il razzo, verrà utilizzato lo Space Launch System, che utilizzerà molte tecnologie già sperimentate sullo Space Shuttle. La NASA ha già costruito il primo stadio e la capsula Orion, con il modulo di servizio realizzato dall'ESA, mentre sta completando l'assemblaggio dei booster e del secondo stadio. Il razzo in costruzione sarà utilizzato per Artemis 1 e sarà necessario ricostruire il lanciatore e navetta per ogni missione. Intanto sono già in costruzione i primi due moduli del Lunar Gateway, che saranno lanciati nel 2023. La situazione è invece maggiormente critica per quanto riguarda i lander. La NASA si è affidata ai privati e ha selezionato tre proposte. La prima proposta è stata presentata da parte del National Team, composto da Blue Origin, che si occuperà del modulo di discesa, Lockheed Martin, che si occuperà del modulo di ascesa, Northrop Grumman, che realizzerà il modulo abitativo, e Draper. Questo lander è il più avanti nello sviluppo, in quanto è quello più tradizionale e utilizza molte tecnologie già testate, per esempio sulla Cygnus, che rifornisce l'ESS, o sul lander robotico Blue Moon, o sulla capsula Orion. La lunaggia avverrà in questo modo. Il modulo di transizione farà uscire il lander dall'alta orbita lunare, dove si troverà. A questo punto il modulo di trasverta si sgancia e inizia la discesa, utilizzando appunto il modulo di discesa. Una volta sulla superficie, gli astronauti faranno quello che dovranno fare, e infine decollano con il modulo di ascesa. La seconda proposta è stata presentata dalla Dynetics, e sperimenterà per la prima volta il distacco di serbatoi durante la discesa. Questo lander potrà portare solo due astronauti, a differenza del precedente che ne può portare quattro, ma potrà permettere una permanenza sulla superficie lunare più duratura. Questo lander sarà quasi completamente riutilizzabile, e avrà la struttura dei pannelli solari, che si presterà bene al tipo di missioni in programma. Infatti, al polo sud della Luna, il Sole sarà vicino all'orizzonte, e questi pannelli permetteranno di ottimizzare l'esposizione anche se la lunaggia avverrà in un cratere o in zone impervie. A questo progetto parteciperanno anche degli italiani, con Leonardo e la tale Salenia. Infine, c'è il lander proposto dalla SpaceX, che consiste in una variante della Starship semplificata. Infatti non ci sarà lo scudo termico e tutto l'occorrente per fare rientro in atmosfera. Questo lander, infatti, non farà mai ritorno sulla Terra, ma sarà riutilizzabile per ogni missione. È senza dubbio la proposta più ambiziosa. Infatti, con i suoi 50 metri di altezza, questo lander potrà trasportare un carico e un numero di astronauti nettamente superiore. L'unica incognita rimane il tempo. Quando la SpaceX riuscirà a costruire e dimostrare l'affidabilità del lander? Proprio per questo motivo non si pensa che sarà utilizzato per Artemis III, ma la NASA ha già annunciato che sceglierà almeno due delle tre proposte. Anche perché la concorrenza abbassa i prezzi e stimola la ricerca di nuove soluzioni. A questo punto una domanda sorge spontanea. Dopo Artemis? A differenza del passato, questa volta si va sulla Luna per restare. Infatti sono già in corso molti studi per permettere la costruzione di abitati direttamente sul suolo lunare, utilizzando la regolite con la stampa 3D. Ma soprattutto, la Luna sarà il trampolino di lancio per Marte e il sistema solare. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.